Beh, assolutamente non mi aspettavo questo successo per quanto mi riguarda. Per quanto riguarda il film, il film è un film di Claudio Caligari che con soli due film prima di questo era entrato nella storia del cinema. Quindi avevo letto la sceneggiatura e mi rendevo conto che sicuramente sarebbe stato un altro evento. Non so dirti, mi hanno chiesto anche prima se mi aspettavo tutto questo. Aspettarsi è sempre una cosa che sembra strana, di qualcuno che si aspetta qualcosa. Però io sentivo che stavamo facendo qualcosa di importante, lo sentivo molto. Lo sentivo nel guardare Claudio, nel guardare tutta la troupe. Quindi non so dirti se mi aspettavo tutto questo, ma questo film è una sorpresa continua. È ogni volta un qualcosa che succede. E questo di oggi è qualcosa di veramente bello che mi è successo. Guarda, sono arrivato da due ore. È la prima volta che sono qui, mi sembra tutto veramente molto bello. E soprattutto il fatto che mi hanno detto che le sale sono sempre piene di pubblico è una cosa che mi fa bene, che mi fa stare bene. Per il resto, purtroppo, domani vado via. Quindi spero di ritornare, o da solo, o per invito.